Ed eccomi qui di nuovo nella mia corner room preferita al mondo, tutta la vista a 270 gradi della città di Osaka, oggi vabbè c'è una vista veramente spettacularissima, spettacularissississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ tutto quanto con questa mega vista e tra poco ci sarà il momento del tramonto ma la magia sarà poi all'alba. Vi faccio anche assaporare insieme a me il bagno, guardate uno sta qua ma l'avete già visto perché ve l'ho fatto vedere in altri momenti qualche mese fa, stai qua nel bagno e ti vedi tutta Osaka. Riguardate tutto quanto e immaginate di dormire qui con me assaporando questa magia giapponese. Zitti tutti. Mi sono messo il pigiama tra virgolette dell'Osaka Merriott Hotel, sono qua che mi sto guardando il tramonto, veramente un'emozione unica e sono qua nella corner room come dicevo, vedete le corner room sono queste stanze ad angolo in cui si vede tutta la città, in ogni hotel chiaramente ci sono poche corner room, mi raccomando quando andate in un hotel così se è possibile prendete una corner room. Non dico di farlo ogni settimana o ogni mese come faccio io queste esperienze così però almeno una volta nella vita vi consiglio di mettervi qua e godervi questo magico momento del tramonto in qualsiasi parte del mondo perché vi arriva un'energia, un qualcosa, delle emozioni spettaculari che ricorderete veramente per tutta la vita. Guardate questa luce calda del sole che mi colpisce nel viso e nell'anima. Guardate il tramonto che bello, tutto si tinge d'oro con questi riflessi in lontananza. Magnifico. Saluto la stanza che mi ha dato delle grandissime emozioni qui ad Osaka. Ciao stanza, ciao, ciao stanza e parto per nuove destinazioni. Vista spettacularis.